Cd Youtube ben trovati da Marco Liguori è morta la bellissima attrice, addio ad un'icona di bellezza e ad un artista che ha segnato un'era e prima di sapere di più vi ricordo che a 200 like pubblicherò immediatamente un nuovo video, in questo video parliamo di una grave perdita che ha affonestato il mondo del cinema e nella fattispecie colpisce il cinema latino americano e messicano a 91 anni e nella giornata di mercoledì è scomparsa la bellissima attrice messicana Elda Peralta mancata all'età di 91 anni bellezza ad altri tempi quando la bellezza era naturale Elda Peralta ha fatto la storia nel cinema messicano soprattutto nell'epoca d'oro prendendo parte ad oltre 30 pellicole tra le più importanti del cinema messicano ricordiamo Elda Peralta attrice e icona di bellezza mancata a 91 anni amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sulla prima di marco liguori e sul nuovo canale marco liguori psicologia e crescita personale ciao a tutti